qui all'Aurum, io sono Gabriella Castiglione che mi conosce e vengo a un festival da 24 anni qua a Pescara e l'istate che si intitola Musica Arma nel Parco. Quest'anno, oltre a questo festival che si è concluso a settembre, ho organizzato anche degli eventi come scritto, Musica Arte Lenti, quindi abbiamo fatto un pari di concerti di Natale, oggi e poi ci saranno anche degli altri concerti a venire, tra cui anche la festa della donna, che vi estenderò l'invito come di dovere. Allora, dico due parole sulla giornata di oggi, innanzitutto io vi ringrazio per la presenza, ringrazio Giancarlo Ragnieri, un applauso a sto ragazzo che prende tutta la storia, di un concerto a conflitto, abbiamo postato su Youtube, sul canale Musica Arte. Allora, anche se la definizione di Shoah e il significato di Holocausto non fanno direttamente riferimento allo sterminio degli ebrei, i due termini oggi sono utilizzati per indicare il genocidio del popolo ebraico. Il significato di Shoah è terribile tempesta e con questo termine ebraico si indica lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Invece la definizione di Holocausto richiama ai sacrifici che venivano praticati nell'antichità. I due termini sono spesso usati per indicare indistintamente lo sterminio degli ebrei, ma vi è una differenza in quanto la parola Shoah si fa riferimento esclusivamente allo sterminio del popolo ebraico, mentre il termine Holocausto si indicano anche le altre vittime della violenza del regime nazista. Dico due parole per ricordare questi eventi così recenti che sono successi qui nel nostro continente. Durante il secondo conflitto mondiale i nazisti del Terzo Reich uccisero oltre 15 milioni di persone ritenute indesiderabili. Le vittime erano 6 milioni di ebrei, mentre la restante parte appartenevano a questioni di Geova, appartenenti alle altre religioni, gli zingani, gli omosessuali, gli oppositori politici e le persone disabili. Ma perché i tedeschi uccisero tutti gli ebrei? Le ragioni e i motivi dell'uccisione degli ebrei affondano le radici dell'ideologia razzista e antisemita di Hitler, ma anche nel suo romanzo, nel romanzo me lo scusami, il main count, la mia battaglia, spiega il suo credo politico, motivando la supremazia della razza ariana sopra tutte le razze. L'obiettivo di Hitler e di tutti i suoi compagni nel Terzo Reich, quindi parlo dei nazisti, era quello di fondare uno stato di Führer per affermare la propria superiorità all'uomo e non restava che la guerra per contrastare e eliminare tutte quelle persone ritenute indesiderabili che avrebbero potuto contaminare la purezza della razza ariana. Per purificare il mondo, quindi i tedeschi nazisti iniziarono da prima a demarginare gli ebrei, con le leggi di Norimberga del 1935. Quindi per comprendere il significato di Shoah bisogna andare indietro nel tempo, alcuni anni prima della scoppa della Salata Verona Mondiale, quando il popolo ebreo inizia a essere confinato nei cosiddetti ghetti. Ma non solo agli ebrei, anche i rom, l'omosessuale appunto, i disabili, divennero le vittime innocenti di questa ferocia che prese il nome di Olofrosco. Con il giorno della memoria, il cui significato è ricordare tutte le vittime dello Shoah e dell'Olocaus, quindi ambe due le parole, si vuole sensibilizzare appunto la coscienza collettiva affinché nessuno dimentichi cosa è successo il 27 gennaio del 1945. I campi di concentramento più famosi, come forse gran parte di noi sappiamo, furono quello di Auschwitz, dove sono morti due milioni di persone, solo ad Auschwitz. Bergen, Belsen, Mauthausen, Drebinca e Gatao. Qui le persone erano costrette ai lavori forzati, destinate alla camera a gas, se incapaci di lavorare, e tutti i bambini. I forni crematori testimoniano l'orrore senza fine di questo scempio che si compiva all'interno dei campi. Il 27 gennaio del 1945, alle ore 15, i soldati sovietici abbattono i cancelli di Auschwitz nel campo di sterminio e vivrano circa 7.650 prigionieri sopravvissuti. Oggi è una giornata particolare perché che sia una giornata comunque di speranza e questi errori diciamo nel nostro piccolo non non devono succedere più. Anche oggi ci sono delle marginazioni, si fa ancora attenzione al colore della propria pelle, oppure alla lingua, oppure alle religioni, che troppo spesso la religione invece di portare del bene ha portato solo alle guerre. L'uomo, l'essere umano, è una razza sola. Non esistono le razze come i cani o come i gatti, ma neanche il microlap. Se noi facciamo una risonanza magnetica a una persona inglese e una risonanza per magnetica a una persona cinese o un arabo è uguale. Non c'è nessuna differenza fisica, nessuna differenza mentale, nessuna differenza di intelletto. Quindi soltanto l'ignoranza ha portato all'illusione di pensare che c'è una razza superiore. Nel caso di Hitler la razza riana. E quindi tutto questo appunto per non dimenticare. E oggi sono molto contenta che abbiamo l'onore, io ho l'onore dal direttore artistico di aver invitato e loro hanno accettato l'invito perché penso che un concerto così bello è indicato che questa giornata non poteva mancare. Allora, il Magnificat è un cantico. Mi hanno detto cos'è il Magnificat. Non è solo il titolo di questo evento, ma è un cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca con il quale la Madonna, Maria Lola e il Grazie a Dio perché si è segnato appunto di liberare il suo popolo. Presento tutti i musicisti, il compositore in primis, Maurizio Chiamaroli, che ha composto questa un bellissima programma. Soprano Letizia Triossi. Mezzo Soprano, Simona Iachini. Abbiamo Piccori, Armonia di Pescara, Dulcis Incanto di Roseto degli Abruzzi, il coro Aeron di Guardiagrele e il coro Mastro Davide Reggio Soprano. I miei studentori sono Edith Piozzi, Antonella Salvatore e Donatangelo Pettore. Il direttore è Giuseppe Calizio. Grazie. 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 15 milioni di persone sono veramente tante. Quindi io vi ringrazio, la musica tocca al cuore, tocca agli animi, ho visto che in questo momento è entrato anche Giovanni Diavolo. dov'è? Dove sei? vieni l'assessore alla cultura delle comuni pescari è una persona di una grande sensibilità e di una grande intelligenza grazie, grazie, grazie di cuore io penso che a chi pensa che il Giove Memoria è semplicemente una ricorrenza da celebrare con la retorica Giove a ricordare l'attualità e l'importanza di capire, approfondire e tenere bene nel cuore quello che fu un contagio di odio e violenza che distruste davvero l'unità e il cuore e l'anima della nostra Europa e purtroppo tante di quelle idee di odio e violenza sono ancora oggi presenti addirittura sono presenti anche in diversi parlamenti di questa nostra Europa per questo è importante che noi combattiamo queste idee, questo contagio di questa violenza e queste idee con la cultura e penso che sia la forma che meglio può permettere di trasmettere a nuove generazioni idee che siano anticorpi e quel contagio per questo abbiamo creato una serie di appuntamenti legati alla cultura contro l'orocausto di cui questo concerto è protagonista è il principio è l'evento sicuramente più partecipato più amato anche perché abbiamo accanto a me Marietta della Castiglione che non smetteremo di dire il quale fondamentale e preziosissima locomotiva culturale tutti i grandi appuntamenti che ci sono come quella molto importante di oggi ma tutte le altre anche al corso dell'anno vengono scandite anche da grandi appuntamenti i momenti che lei costruisce per tutta la città per tutta la regione e questo ti rende davvero una delle cose più belle e più efficaci che ci siano per far crescere culturalmente la nostra città e anche se un giorno come questo tanti appuntamenti ci sono sapete che in altri luoghi come sempre l'afflizione che confronti a parte del pubblico è il livello altissimo di quello che doni a questa città e a questo spazio perché da un po' di anni da cinque anni non ci sono hai trasportato il tuo calendario dal parco diciamo all'aula e lo hai reso un luogo più partecipato più acceso di cultura come non lo avrei mai stato quindi io ti ringrazio moltissimo sia per aver voluto creare un evento come questo in un giorno in cui non basta semplicemente ricordare ma bisogna anche capire e capire quali sono gli strumenti per contrastare quello che è avvenuto quelle decennie tragezioni venute e sicuramente la cultura è una delle più importanti di queste io ti ringrazio ma di voi come ringrazio tutte le persone che sono qui e di col vostro talento e la vostra musica sicuramente come posso dire inciderete nell'immaginare mi ricordo di questa giornata e penso di trasmettere tanto a tutti i presenti e poi vi ringrazio a voi per riempire come sempre queste sale questi appuntamenti ci riguardate a noi che cerchiamo di lavorare per la crescita culturale di questa comunità perché vedere sempre le sale piene di così bella gente appassionata dimostra una pescara non sia una città impermeabile ma invece molto appassionata che ha tanta fame in sede di cultura e speriamo di alimentare sempre di più tutti insieme ciao grazie Giovanni Di Auro e sicuramente ma qualche giorno non è un discorso politico perché adesso abbiamo parlato di scioari dei colori politici che le persone di cultura non appartengono e se Giovanni Di Auro questa è una tua promessa di fronte al ricordo di queste 15 milioni di vittime con questo magnifico eccezionale che dopo il 10 di febbraio tu rappresenterai la regione mi raccomando quindi dobbiamo replicare in tutte e quattro che non c'è questo evento in tutti i comuni quindi Pescara L'Aquila Chieti e Teramo perché in questi giorni perché è stata anche a tutti la mia figlia e la città della famosa io ci voglio che non si ricordano quindi noi ci accorgeremo a te adesso al comune e poi alla regione quindi è una promessa ed ecco a voi il Magnificat prego buon ascolto e mi raccomando stagioni di sfiduare grazie mille 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 Grazie a tutti. 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 etichettature, no? Quindi a volte mi dicono ma tu sei l'elivo e la musica, quindi la musica è ovunque noi possiamo tradurre le nostre sensazioni e i nostri sentimenti, quindi evviva la musica, evviva voi, evviva Maurizio Chiavoroni, evviva D'Antica, grazie, grazie Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti Se questo è un uomo Voi che vivete sicuri nelle vostre vievi case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e dei sei amici Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare vuoti i miei occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandomi, alzandomi, ripetete ai vostri figli, o vi spaccia la casa, l'antia vi impedisca i vostri nati toccano il viso da voi Primo neve Grazie 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 Grazie